bene ho voluto fare questo video per farti vedere dopo il nostro webinar come chiudo la posizione che ho preventivato ieri. Ieri eravamo in questa situazione quando ho fatto il webinar ho avvisato che il target che i professionali mettevano che ora andiamo a vedere eccolo qua 5.766 sarebbe stato preso ho analizzato come il target combaciava con delle pressioni istituzionali ora chiudo la mia posizione 5.903 euro perfetto ecco ti volevo dimostrare come fare trading con le giuste nozioni è importantissimo volumi strumenti da noi sviluppati che ci fanno capire come le mani forti si stanno muovendo il momento della chiusura è stato terminato una serie di cose che chiaramente spiego nei miei corsi però insomma credo che questo ti abbia fatto capire se sei stato presente al nostro webinar o se hai visto la registrazione la previsione che ho fatto come è possibile fare bene il mestiere del trader avendo le giuste informazioni ti aspetto nella mia accademia mi raccomando potrebbe essere acquistare il nostro corso il miglior investimento che tu faccia nel 2024 un saluto a presto ti aspetto nella top trading academy